Benissimo, una volta che vi ho fatto vedere questo allenamento Voi sapete benissimo che ogni puntata ve ne faccio vedere uno Andate lì, ve la incollate, vedete? Vedete? Pum, è easy È una cazzata pazzesca, sempre, guarda, hop, calamita Se voi fate questa roba è veramente una gran cazzata Benissimo, allora, siamo pronti per andare a giocare insieme ai nostri amici che stanno aspettando Oh Cipriano, mio padre ha bestemmiato, sì, quando ti ha fatto Allora, benissimo, allora Se ne faranno cose molto più Perché qua, qua le cazzate volano come, guarda Vabbè, comunque